Maometto II e Costantinopoli sono probabilmente questi i due protagonisti della nostra storia ed è attraverso questi due protagonisti che si concretizza la storia di questa particolare presa del potere dove un sultano turco di origini nomadi trova nella conquista di Costantinopoli una completezza, una pienezza del suo potere attraverso un'eredità antica e attraverso uno spazio, quello mediterraneo, che gli permette di trovare radici ancora più profonde della sua storia e del suo potere.